due gendarmi sarebbero stati assassinati in questi giorni mentre stavano scortando un prigioniero corso da corte ad aiaccio ogni anno in questa terra di banditi accade che dei gendarmi vengano trucidati dai feroci abitanti dell'isola rifugiatisi in montagna in seguito a qualche vendetta quella famosa vegetazione di fittissimi arbusti nasconde in questo momento secondo la stima degli stessi magistrati da 150 a 200 banditi di questo tipo che vivono sulle cime delle montagne tra rocce e fratte nutriti dalla gente del posto a causa del terrore che incutono non citerò i fratelli bellacoscia conosciuti quasi ufficialmente come briganti e che occupano stabilmente il monte d'oro alle porte di aiaccio proprio sotto il naso delle autorità la corsica è un dipartimento della francia e quindi questi fatti avvengono nella nostra patria senza che nessuno se ne preoccupi di questa sfida alla giustizia ben diverse reazioni hanno provocato le incursioni di pochi banditi crumiri popolazione errante e semi selvaggia sulla frontiera quasi indeterminata dei nostri possedimenti in africa ed ecco che questo eccidio mi fa tornare in mente un viaggio fatto in questa stupenda isola è un'avventura semplice ma assai caratteristica grazie alla quale ho avuto modo di capire l'animo di quella razza tenace nella vendetta dovevo andare da aiaccio a bastia da prima lungo la costa e poi nell'interno attraversando la selvaggia e arida vallata di niolo che là è chiamata la cittadella della libertà perché a ogni invasione di genovesi di mori o di francesi i partigiani corsi si sono rifugiati proprio in quei luoghi inespugnabili senza che nessuno abbia mai potuto cacciarli o soggiogarli avevo letto alcune lettere di presentazione perché in quella terra gli alberghi sono ancora sconosciuti e come al tempo dei tempi è necessario chiedere ospitalità la strada dopo aver bordeggiato il golfo di aiaccio che è un golfo immenso tutto circondato da alte montagne che lo fanno sembrare un lago sprofonda quasi subito in una vallata e risale poi verso i monti capita spesso di attraversare torrenti quasi in secca qualche cosa come un ruscello si muoveva nelle pietraie lo si sentiva scorrere ma non lo si vedeva il paese non coltivato pareva nudo le rotondità dei monti vicini erano coperte di erbe alte gialle in quella stagione infuocata di tanto in tanto mi capitava di incontrare un viandante che se ne andava a piedi o su un piccolo cavallo magro tutti portavano il fucile carico e spalla pronti non vè alcun dubbio ad uccidere al minimo segno di offesa il profumo acuto delle piante aromatiche delle quali l'isola è coperta invadeva l'aria la rendeva pesante consistente e la strada procedeva salendo lentamente tra i calanchi dei monti dirupati talvolta su pendi ripidi scorgevo qualche cosa di grigio come una massa di pietre arrotolate dalla cima era un villaggio un piccolo paese fatto di granito incrostato là arroccato come un nido di uccello e quasi invisibile nell'immensità della montagna in lontananza foreste di enormi castagni parevano macchie talmente gigantesche sono quelle grandi groppe di terra e la macchia fatta di querce verdi di ginepre di corbezzoli di lentischi di alaterni di eriche di laurotini di mirti e di bossi intrecciati come da capelli da clemati di rampicanti felce mostruose caprifogli ornelli rosmarini spigo rovi formava sul dorso dei pendi ai quali mi avvicinavo un vello inestricabile sempre sopra quella vegetazione rampicante spuntava il granito delle alte cime grigie rosa o azzurrine che sembrava slanciarsi fino al cielo avevo portato qualche provvista per mangiare e così sedetti accanto a una di quelle piccole sorgenti che si trovano di frequente nei paesi montuosi dalle quali esce un filo sottile e rotondo di acqua chiara e ghiaccia un filo che zampilla dalla roccia e scorre su una foglia messa lì dal passeggero per portare il getto fino alle labbra galoppando con il mio cavallo un cavallo piccolo ma fuocoso dall'occhio fiero e dal pelo tutto irto andai lungo il vasto golfo di sagona e attraversai cargese un villaggio greco fondato da una colonia di fuggiaschi esiliati presso la fontana c'era un gruppo di ragazze alte e belle con i fianchi eleganti con le mani lunghe e la testa dai contorni delicati erano molto graziose feci loro un complimento senza fermarmi mi risposero con voce cantilenante nella lingua del paese che avevano abbandonato dopo aver attraversato piana penetraio all'improvviso in una fantastica foresta di granito rosa tutta picchi colonne figure sorprendenti corrose dal tempo dalla pioggia dal vento e dal salmastro queste strane rocce alte qualche volta anche cento metri come obelischi incappucciate come un fungo o intagliate a forma di piante o tutte contorte come tronchi d'albero dall'aspetto di strani esseri di uomini prodigiosi di animali di monumenti di fontane ferme come un'umanità pietrificata come un popolo sovrannaturale imprigionato nella pietra per antichissimo volere di un genio formavano un immenso labirinto di forme inverosimili rossastre o grigie con qualche tono azzurro pareva di scorcervi leoni accuvacciati monaci in piedi con la lunga veste cadente vescovi diavoli orrendi enormi uccelli bestie apocalittiche tutta la fantastica quantità di figure che popolano i sogni dell'uomo e che lo ossessionano nelle sue angosce forse non c'è in tutto il mondo niente di più strano di questi calanchi di piana niente di più curiosamente lavorato dal caso all'improvviso uscendo di là dentro scoprì il golfo di porto circondato completamente da una muraglia sanguigna di granito rosso che si specchia nel mare azzurro dopo essermi arrampicato con fatica su per la sinistra valdota arrivai sul far della sera la devisa e bussai alla porta di paolo calabretti per il quale avevo una lettera di un amico era un tipo molto alto un po curvo e aveva l'aria malinconica dei tisici mi condusse nella mia camera era una stanza tetra di pietra nuda ma bella per un paese come quello che non conosce eleganza mentre nella strana lingua dei corsi che è un dialetto rauco un miscuglio di italiano e di francese mi esternava tutto il suo piacere di ospitarmi una voce acuta lo interruppe si fece avanti una piccola donna bruna con un paio d'occhi scuri la pelle dorata dal sole la vita sottile e i denti sempre in mostra in un continuo sorriso con slancio mi prese la mano e la scosse buongiorno signore come sta mi prese il cappello la borsa da viaggio afferrò tutto con un solo braccio perché portava l'altro al collo poi si fece uscire dicendo al marito porta fuori il signore con te andate a passeggio fino all'ora di pranzo carabretti si mise al mio fianco strisciando passi e parole tossendo frequentemente ripetendo a ogni piesso spinto è l'aria della valle è un'aria fresca mi è caduta qui sul petto mi guidò attraverso il sentiero che si perdeva sotto i castagni immensi improvvisamente si fermò e con il suo accento monotono disse è qui proprio qui che mio cugino jean rinaldi fu ucciso da mattie lory guardata ero là proprio accanto a jean quando mattie apparve a dieci passi da noi jean gridò non andare d'albertas non andarci jean se no ti ammazzo ti ho avvertito presi jean per un braccio non ci andare jean lo farà davvero era per una ragazza paolina sinacupi che tutti e due corteggiavano ma jean cominciò a gridare ci andrò mattie non sarai tu a impedirmelo allora mattie spianò il fucile prima che io avessi potuto imbrazzare il mio e sparò jean fece un salto con tutti e due i piedi come un bambino che giochi alla corda sì signore e ricadde su se stesso il fucile mi scappò dalle mani e rotolò fino al grande castagno che vedete laggiù jean aveva una gran bocca aperta ma non disse una parola era morto guardavo stupefatto il tranquillo testimone di quel delitto gli domandai e l'assassino paolo calabretti tossì a lungo quindi disse è andato su in montagna è mio fratello che l'ha ammazzato l'anno dopo sapete mio fratello calabretti il famoso bandito balbettai vostro fratello un bandito il colso tranquillo ebbe un moto di fierezza sì signore era celebre lui ha steso 14 gendarmi è morto con nicolas moralì quando furono circondati nel niolo dopo sei giorni di lotta mentre stavano per morire di fame e con tono rassegnato soggiunse il paese vuole così e lo disse con lo stesso tono che adoperava parlando della sua tisi e l'aria della valle che è fresca il giorno dopo per farmi rimanere ancora un po avevano organizzato una battuta di caccia e un'altra ne organizzarono per il giorno successivo mi arrampicai là per quei burroni insieme a quegli svelti montanari che continuamente mi raccontavano avventure di banditi di gendarmi sgozzati di inestinguibili vendette durate fino allo sterminio di una razza e spesso come aveva fatto il mio ospite aggiungevano il paese vuole così vi rimase quattro giorni e la giovane corsa un po troppo piccola sima affascinante mezzo contadina mezzo signora mi trattò come un fratello come un vecchio e intimo amico quando venne il momento di lasciarla la trassi nella mia camera e precisando che non avevo nessuna intenzione di farle un regalo insistei fino a inquietarmi per mandarle da parigi quando vi fossi tornato un ricordo della mia permanenza in corsica resiste a lungo perché non voleva accettare alla fine accettò va bene allora mandatemi una piccola rivoltella ma piccola feci tanto d'occhi e a voce più bassa in maniera confidenziale come si confida a un dolce intimo segreto lei disse è per ammazzare mio cognato rimasi terrorizzato allora la donna sciolse con fare vivace le fasci che le tenevano il brazzo al collo e facendomi vedere la carne rotonda e bianca attraversata da parte a parte da un colpo di stiletto quasi cicatrizzato disse se non fossi stata forte quanto lui mi avrebbe ammazzata mio marito non è geloso lui mi conosce e poi è malato sapete che la malattia gli calma il sangue e io sono una donna onesta sì signore ma mio cognato crede a tutto ciò che gli viene detto è geloso per mio marito e certamente ricomincerà così se avessi una piccola rivoltella sarai sicura di ucciderlo e promesi di mandarle l'arma ho mantenuto la promessa sull'impugnatura ho fatto incidere per la vostra vendetta grazie a tutti